Siamo con Riccardo Martini, proprietario del Braccioforte, come stanno andando le cose? Ma benone, benone. Cosa è cambiata? Ma per adesso grossi cambiamenti non se ne sono ancora visti sul lavoro, è ovvio che dispiace avere queste limitazioni, però d'altronde siamo di fronte a una pandemia e ci dobbiamo adattare. C'è meno gente? Un po' di calo c'è stato sicuramente, però diciamo che la gente sta capendo la gravità della situazione e stiamo correndo ai ripari per quello che si può fare. Controlli ce ne sono? Per adesso non ancora, però mi risulta che ci saranno, sì. Cosa è cambiato? Noi siamo d'accordo per il Supervin Pass che penso che è una cosa più rinforzata, facciamo controlli tutti i giorni, serve. C'è stato un calo di clienti? A noi sinceramente no, il nostro lavoro dipende anche dal tempo che abbiamo questa destamare, è bellissima e penso di no. Andiamo avanti, poi si vede. Le cose stanno andando bene, nel senso che noi chiedevamo prima il Green Pass e lo chiediamo anche adesso, l'unica cosa sarebbe da specificare un po' meglio come sono queste Green Pass, perché la gente è ancora molto molto confusa, quindi cerchiamo di fare un po' più di chiarezza, però è un po' sballottata. Meno gente? Né, dai, speriamo che nel periodo di Natale riusciamo a ritrovare la nostra Imperia carica di color, adesso quest'anno, non so se avete visto, tutti abbiamo fatto delle bellissime vetrine, delle bellissime cornici, tutte natalizie e sembra che l'Imperia è carica per riparare. Come vanno le cose? Vanno bene, non è cambiato nulla, la gente rispetta le cose e noi andiamo avanti come prima. Quindi cosa cambia però? Onestamente io non ho trovato nessun cambiamento, tutti i nostri clienti vengono e hanno tutto il Green Pass e si siedono, qualcuno forse non entra perché sa di non averlo e si siede fuori, ma noi non abbiamo avuto nessun tipo di problema fino adesso. C'è stato un calo di gente? No, penso proprio di no. Quindi tutto come prima? Sì, in linea di massima è rimasto come prima, sì.